Ciao ragazzi, questa è la canzone del capitolo 977, ve la faccio sentire. Mentre Rufy vuole bere per festeggiare gli altri, in procinto di cercare un po' di alcol per brindare. Ma la porta di Onigashima è difesa dai soldati, e mentre lo dici hanno già vinto i pirati. E chi ne mo' dà l'ordine di entrare alle navi, però soli non si può brindare e rimandare. È la soluzione per stare insieme quando tutto sarà vinto, perché dopo questa lotta si farà una grande festa. Grazie. 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 Grazie.